a noi ci ha fatto fare solo il rosario ci ha fatto andare uno per uno alla cattedra e poi ci ha fatto scegliere le perline poi ci ha aggiunto la madonna e la croce e ha portato anche l'olio in classe si ce l'ha messo a tutti ve l'ha messo in fronte si che dio ti benedica eccoci qua ho gli rosari perché in classe la maestra sarda ha esagerato o ha fatto bene questa è la domanda molto semplice come quelle che facciamo e la saluto marisa francescangeri buona benvenuta poi don patrizio benvenuto giuliano granato buonasera popolare potere al popolo in collegamento da ravarino pier giorgio o di freddi buonasera professore e da roma mario adinolfi mario adinolfi ma la scuola dobbiamo essere tutti d'accordo sul fatto che la scuola sia laica ma laica non vuol dire atea di questo dobbiamo essere assolutamente convinti tutti l'ateismo imposto a scuola che impedisce di fare quello che abbiamo sempre fatto da ragazzi ho visto nelle vostre interviste si ricordava io ho imparato l'ave maria il padre nostro a scuola nella scuola pubblica le elementari della scuola pubblica perché fanno parte del nostro tessuto sculturale fa parte della nostra storia della nostra radice non si tradicano i popoli o di freddi altrimenti finisce e pensi che il mondo si è iniziato 6 mila anni fa è proprio parte dello stare nella cultura il sapere ciò che c'è attorno e se ci mettiamo paura per un ave maria guarda ti assicuro nelle scuole italiane ben altra ideologia penetra in maniera violenta qualche volta e surrettiziamente rispetto al volere dei ragazzi e delle famiglie quindi se in una scuola elementare succede di dire un ave maria e un padre nostro non credo che faccia male a nessuno e soprattutto non contraddice il principio di laicità il principio di laicità viene contro tutto quando ci si spaventa di ciò che siamo imponendo un ateismo di stato che non è scritto in nessuna parte della costituzione repubblicana tra l'altro secondo me si fa anche un po' una confusione mi è sembrato da parte di adenolfi e non solo cioè il fatto di dire non si devono recitare preghiere durante le ore per esempio di scienza o di matematica dice questa è una posizione atea ma non è affatto vero perché la laicità e l'ateismo sono due cose completamente diverse dire non recitate preghiere fuori luogo o fuori tempo non significa recitate invece le formule dell'ateismo per esempio o insegnate a bestemmiare se questo si vuole no cioè sono due cose molto diverse no non si fa propaganda di ateismo quando si impedisce di fare la religione al di fuori dei momenti in cui questa religione potrebbe essere insegnata tra l'altro professore ogni docente ogni docente si batte per la libertà di insegnamento aspetta aspetta Mario Mario aspetta un attimo ogni docente Mario di notte il punto è questo la battaglia secondo me giusta dei docenti che è sempre stata una battaglia di libertà per la libertà di insegnamento ha poi prodotto negli anni anche negli anni in cui sono stato a scuola io ma negli anni in cui sono a scuola le mie tre figlie l'indottrinamento di ogni genere ai docenti ho sentito dire fare battaglie di natura ideologica persino partitica ma non partitica in termini popolari proprio in termini faziosissimi proprio di parte di corrente in ogni aula ora l'unica cosa che mette paura in questo paese sembra essere un Ave Maria un Padre Nostro o un Rosario c'è un pregiudizio anticristiano furibondo che sta attraversando la cultura italiana la televisione italiana due giorni fa ho assistito a qualcuno che andava a raccontare che San Giovanni Paolo II era uno che usciva la sera per andare a ragazzine e che il Cardinale Casaroli era uno che si è organizzato per eliminare Manuela Orlandi e Mirella Gregori perché erano amanti del Papa roba folle che vedo attraversare la cultura italiana e in nome della libertà io chiedo ora la libertà anche per i cattolici anche per i cristiani di poter dire un Ave Maria sia anche in classe insegnandola come elemento radicale cioè di radice del nostro popolo e della nostra storia perché questa è la vera nostra radice Feltri uscendo ha detto io devo tutto alla Chiesa Cattolica uscendo di qua Valore, valore Alla prossima settimana, buonanotte